The New Stories. La tua informazione libera. Nell'ultima puntata della trasmissione è stato trasmesso un filmato inedito che mostra l'assassino insieme alla sua nuova compagna, Marilinda, di 56 anni, suscitando ulteriori polemiche e tensioni intorno al caso. La donna ora si è ritrovata nel mirino della giustizia, a causa di un atteggiamento davvero preoccupante, al punto che i genitori della povera Elena Ceste non hanno esitato a prendere provvedimenti. L'omicidio di Elena Ceste è tra quelli che più hanno toccato l'opinione pubblica. Si è trattato di un crimine particolarmente efferato, per il quale l'assassino sta pagando ora la sua giusta pena. Negli ultimi giorni, la nota trasmissione Chi l'ha visto ha comunicato le ultime novità sul caso, ad essere coinvolta, è la compagna del Buoni Conti. È stato riproposto un vecchio filmato, in cui l'assassino era a colloquio con l'attuale compagna e commentava così la sua permanenza in carcere. Sono in carcere, ma mi sembra di essere in vacanza. Parole davvero raccapriccianti che fanno intuire come non avesse nessun pentimento per quello che aveva fatto. Purtroppo, negli ultimi giorni è emerso che proprio la compagna Marilinda si sia trovata al centro di accuse molto gravi. Come racconta Federica Sciarelli, i genitori della povera vittima che si occupano dei suoi figli hanno segnalato che la compagna del Buoni Conti si sia avvicinata ai ragazzi, facendo loro delle pressioni. Non si capisce ancora il motivo di questo strano atteggiamento, ma sta di fatto che i nonni dei ragazzi l'hanno querelata, intimandole di non avvicinarsi più ai figli di Elena Ceste.